Oddio, Maria Soffia si è messa in bocca ai piedi di una vecchia, che discusa! Quando letteralmente noi dovremmo essere la generazione del progresso sociale e anche del cerchiamo di abbattere i tabù. Quindi il fatto che io venga criticata perché semplicemente in un video di food fetish, faccio food fetish, mi fa capire che c'è ancora tanto, tanto da lavorare dal punto di vista culturale.